Il PD rinnega se stesso accusando l'ex ministro di essere un collaborazionista del governo attuale di centrodestra, ha spondato le lobby del nucleare, fatto le nomine che pretendeva la destra, dice Borghi l'annuncio che l'ex ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani affiancherà il governo nelle trattative europee che dovrebbero trasformare in atti concreti l'impegno a una politica energetica comune è stato letto da tutti come un segnale di continuità con le iniziative su questo argomento del governo di Mario Draghi Ci si sarebbe aspettati un apprezzamento da parte del PD, che di quel governo si considera il più convinto sostenitore, casomai una, denuncia, dell'incoerenza di chi, come Giorgia Meloni, di quel governo era stato tenace oppositore Abbonati per continuare a leggere sei già abbonato? Accedi resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale le inchieste, gli editoriali, le newsletter I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal mondo il foglio web a 8 euro per un mese